Senti? Sì Ok Allora abbiamo 50 50 A mano destra che non caggare A sinistra 6 Perché destra che? Vietta A sinistra 6 Vietta che? A quarta A mano Certo destra che non caggare 20, accetto desto 20, accetto desto 20, sinistra 2, attenzione più interno per accetto desto 20, per destra 5 200, sinistra 6 per destra 6 per destra 6 e diventa 2 per sinistra 5 e subito destra 6 e finisce la pianta per accetto sinistro 20, sinistra 2 per destra 6 per sinistra 6 all'ideaio destra 2 50, al cartello sinistra 2 50, destra 5 20, per sinistra 10 niente per destra 5 diventa terra in italian e subito sinistra 2 50, al cartello con l'osso sinistra 5 per sinistra 5 a rea istante per destra 10 per subito sinistra 10 50, al cartello sinistra 4 per sinistra 6 per sinistra 6 80, al cartello sinistra 6 per destra 10 per destra 10 20, per destra 4 per sinistra 6 80, al cartello sinistra 6 50, al cartello sinistra 6 50, al cartello sinistra 6 per sinistra 2 200, dai 200, sinistra 5 20, per destra 6 che diventa 2 a rea 50, al cartello sinistra 6 per sinistra 6 20, sinistra 4 per destra 10 per sinistra 6, dai a rea in sinistra 1 20, al cartello sinistra 6 20, al cartello destra 6 per sinistra 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 5 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 la casetta stacca per destra di sporca 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 testa di sporca 50 al palo sinistra 2 Gita! Gita!